buongiorno a tutti ben ritrovati oggi a grande richiesta come nello scorso video vorrei parlare di come gestire un prodotto musicale gestire ma anche creare farne un discorso complicato un po complicato però sono sicuro che se vorrete seguirmi al contrario potete andare a vedere i video dove fanno i balletti su tiktok e farvi capire come sfruttare i social per generare incredibile visibilità vi faccio vedere la mia personale visione ed esperienza in merito allora ci sono due grandi modalità di gestire e a mio parere gestire e costruire un progetto musicale cioè cosa significa la prima è la modalità che io chiamo potrei virgolettare a mercato la seconda è la modalità individuale oppure potrei anche chiamarla egocentrica ok ora perché parlo di queste due modalità perché ovviamente il come costruiamo oltre che a gestire quindi il pensiero parallelo vi ricordate il binario che vi facevo vedere la volta scorsa no del del fatto di avere una gestione consapevole di un proprio progetto del proprio prodotto musicale ma questo è rivolto anche a chi ha un'attività o che chi lavora con la musica in modo serio dovrebbe essere questo cioè avere l'idea di quello che si sta facendo ancora prima di farlo ora qual è la finalità fondamentalmente almeno per quello che noi possiamo vedere anche rispetto alle tante richieste che riceviamo di ricerca da parte di artisti di chi ha progetti musicali eccetera eccetera è questa fantomatica visibilità ok ora la compileremo insieme questa lavagna sarà una figata oggi vedrete allora il termine ultimo di questa visibilità nella credenza e nella coscienza comune che cosa dovrebbe essere cosa dovrebbe generare la visibilità i soldi no questa entità di cui probabilmente si sa troppo poco rispetto ai soldi così come la mente del mercato ok perché il mercato è di base una sovrastruttura ma oggi cercherò di fare dei piccoli esempi per farvi capire che cosa intendo e quindi si crede e gli artisti credono che attraverso una visibilità data da tutta una serie di fattori che oggi accenneremo si possa ottenere indietro un riconoscimento di valore economico ora del fatto che la visibilità non paga ne ho anche parlato nel dizionario cioè la visibilità non direzionata non direzionata cosa intende una visibilità che non ha un pensiero bilaterale un pensiero a binario ok non so chiamatelo come volete quindi produttivo strategico perché perché la musica è una catena ok quindi dobbiamo oltre ad avere una catena produttiva di un certo tipo avere anche una mentalità di un certo tipo ora facciamo un attimino però una parentesi su il mercato che è la parte più oscura quella che non viene compresa quella che non proprio non ci siamo su questo allora il mercato che cos'è di fondo se dobbiamo dargli una definizione è una sovrastruttura è un po' immaginatevela come potrei farvela capire e vedere in modo molto semplice cioè immaginatevela come una mente sopra tutta una serie di che cosa? di nicchie ok e quindi ogni nicchia avrà le sue caratteristiche ok ora non entro nel merito delle caratteristiche si potrebbe fare e parlarne una settimana cose che dovreste studiare ora voi immaginate che questo mercato è appunto una sovrastruttura ed è un sovra insieme di nicchie che hanno determinate caratteristiche ok ora però il mercato come è regolato? il mercato è regolato se voi avete sentito anche solo dire quante volte avete sentito domanda offerta no? questa è la questione della domanda e dell'offerta no? io voglio portarvela ad un termine più banale e arriveremo a perché vi ho parlato all'inizio di gestire ma anche costruire un prodotto cioè potrei dirvi ovviamente ho degli appunti perché non è che se no mi perdo i pezzi che esiste la domanda di mercato e io dico più che offerta la chiamerò risposta voi direte ma è pazzesco su Music Business Italia che cosa stiamo trattando ora vedrete perché io vedo questa cosa e faccio questo video perché non se ne può più di avere e ricevere queste miriade di mail ma secondo me ho fatto questo prodotto e potrebbe funzionare questo secondo me questa soggettività veramente malata che c'è in questa cosa perché? perché non si capisce totalmente questo aspetto che è complicatissimo quindi io dicevo risposte perché le chiamo risposte non offerte? perché l'economia quindi il mercato è ovviamente regolamentato da questa moneta che in pochi capiscono di cui capiscono e io stesso ero il primo che non capivo come funzionavano i soldi per cui non capendo come funzionavano era molto difficile riuscire a acquisirli ok attraverso ovviamente competenze, conoscenze, musica e quant'altro però il mercato fondamentalmente ha questo schema e se si danno delle risposte alla domanda di questa sovrastruttura che si chiama mercato verremo ricompensati con che cosa? con questi soldi per cui noi dobbiamo dare risposte al mercato ora, si potrebbe veramente parlare ore anche delle regole del funzionamento sia del denaro sia del mercato però non voglio entrare in merito anzi ne approfitto per anticiparvi che proprio per questo genere di cose abbiamo proprio e stiamo costruendo e stiamo pensando di costruire e per quello che ci vedete con gli occhi fuori dalle orbite una piattaforma dove argomenteremo tutta questa serie di cose in modo molto approfondito poi chi volesse ovviamente può contattarci però che cosa succede? e perché io sono andato da questa parte e ho fatto questo pippone megagalattico sulla questione del mercato ovviamente in modo molto semplicistico perché? perché nella costruzione di un progetto uno già dovrebbe capire come vuole approcciarsi a questo genere di costruzione e la media quando io parlo di individuale e egocentrismo che cosa intendo? che dando per scontato che in ogni caso cioè qua in mezzo io dovrei mettere che è una cosa che dovrebbe esistere da ambe due le parti la strategia poi mi chiedo come fai a costruire una strategia se non conosci tutta una serie di regole ok? e tutta una serie di nicchie tutta una serie di comportamenti tutta una serie di cose dedicate al mercato e io so già qua che ci sono persone che dicono eh ma non ci sono più gli artisti di una volta eh ma non c'è più il mercato ormai discografico guardatevi il report toglietevi questa soggettività andatevi a vedere il report guardate quanto è cresciuto il mercato e soprattutto studiate e guardate come determinati artisti anche determinate star ok? del passato e del presente di tutte quelle persone che hanno una posizione all'interno del mercato sono attente a determinate dinamiche questo non lo dico io lo diceva anche il signor Passman in un suo bellissimo libro che tutti dovrebbero leggere ora perché io vi dicevo caratteristica individuale o a mercato perché senza una strategia di base l'artista medio o il musicista medio cosa fa? crea il prodotto seguitemi lo so che vi annoio ma seguitemi ora creando il prodotto e una volta finito di creare il prodotto per cui ragionando in modo lineare non parallelo quindi non avendo chiaro questo binario strategico e non avendo minimamente valutato questo aspetto che cosa cerca? la visibilità quindi lui dice io ho in mano questo disco e adesso questo disco cosa devo fare? devo farlo arrivare a più persone possibile no? in modo da generare visibilità quella visibilità non si capisce bene come e con quale strategia mi genererà tutta una serie di soldi economia sostenibilità ora però qui entra il giochino che cos'è la visibilità? a volte penso che questi video dovrei farveli pagare la visibilità o la necessità di visibilità è una domanda è una domanda della sovrastruttura e della mente superiore che si chiama mercato io cerco visibilità come posso ottenere visibilità? come posso fare in modo che il mio brano, la mia arte finisca nelle mani e nelle orecchie di più persone possibili? o sono domande no? qual è il problema? è che il mercato che non vive su vive su delle regole che sono delle anch'esse delle sovrastrutture non potrei veramente stare qui a raccontare il perché e per come o meglio se deciderò un domani di farlo lo farò in tre ore? quattro ore? cinque ore? non lo so cosa succede? che la risposta di mercato che cos'è? tutto quello che noi abbiamo visto quindi ipotesi distribuzione discografia servizi tutto quello che aziende comprendendo questo loop ti vendono a te che sei il musicista o l'artista che per una visione egocentrica e individuale cerchi una visibilità senza accorgerti che cosa succede? che tu sei dentro praticamente questo loop perché il mercato è più furbo di te ok? quindi cosa succede? risposte distribuzione, servizi Spotify, le playlist le ads e perché non promuovi il tuo singolo e perché non promuovi questo e perché non promuovi quello perché non spendi 1700 euro per il tuo singolo per un bell'ufficio stamp tutta una serie di servizi che persone mettono a mercato che ti tiene come un criceto gira nella sua ruota esattamente in questo loop un progetto cerco visibilità cerco la visibilità perché la visibilità potrebbe darmi darmi i soldi e come faccio ad ottenere visibilità? oh distribuisco questa cosa mi iscrivo a questa piattaforma cerco ads su questa cosa ah perfetto ok questa è una risposta ti vendo il bel servizio e via a girare ok? quindi perché io adesso torno indietro e vi faccio il finale, il gran finale ok? avrei potuto fare anche un esempio molto interessante sul magari alla fine lo facciamo sul me lo segno qua aspetta valore percepito percepito e qua devo segnarmi anche una cosa facciamo un esempio concreto di sistema che gira al contrario per poi arrivare al finale c'è tempo? sì c'è tempo maneskin ok? ora mettete da parte i pregiudizi per favore ok? nessuno sta giudicando artisticamente questi ragazzi stiamo facendo un'analisi fredda esattamente come freddo è il mercato come freddi sono i soldi perché i soldi non gliene frega niente se finiscono nelle mani di chi vende armi di chi vende bombe atomiche o di chi salva bambini non hanno una loro morale ok? quindi è una questione totalmente sterile ok? è una visione totalmente sterile caso maneskin chi magari di voi bazzica di più l'ambiente musicale che cosa sentiva negli anni e soprattutto proprio nei momenti prima dell'arrivo e dell'esplosione più che dell'arrivo dell'esplosione dei maneskin perché i maneskin era già tempo che erano comunque e avevano progetti e stavano portando avanti il loro progetto io vi dico alcune cose che ricordo ah beh ma non ci sono più le band e la musica suonata ormai è morta e ormai purtroppo le ultime band che la storia conosce sono quelle degli anni 70 degli anni 80 e ormai i ragazzini ascoltano più solo la musica elettronica e la trap che cosa sono queste domande? quindi siccome il mercato ricordatevi che è una sovrastruttura data dall'unione dei pensieri della collettività ok? oh! c'era questo genere di domanda cioè la domanda intrinseca qual era? ci sarà mai qualcuno che potrà ribaltare la situazione riportare fuori cambiare questo ciclo? o qual è stata la risposta? i maneskin ok? e ripeto in modo molto freddo oggettivo lasciate da parte la vostra soggettività ok? i maneskin sono stati una risposta a una precisa domanda di mercato ok? ora ci sarà gente che può dire ah vabbè ma è stato infatti un prodotto a tavolino ma magari ci fossero persone che ragionano con i prodotti a tavolino ok? perché il problema della musica è che tutti fanno le cose a cazzo di cane cioè e invece bisognerebbe sedersi a tavolino e decidere che cosa e quindi qua mettiamo da parte questi ragazzi ok? e il loro meritatissimo successo il mio modo di vedere le cose cosa decidi di fare? decidi di essere un individualista egocentrico o decidi di provare a capire prima di tutto il tuo processo produttivo prima di metterti nelle mani o metterti a spendere soldi per attrezza questo quello dell'altro se la tua idea può avere e può rispondere a delle domande di mercato e voi mi direte eh vabbè ma così si snatura l'arte sto cazzo ok? perché David Bowie pensate che non si faceva queste domande? o Eric Clapton pensate che non si faceva queste domande? ah boh David Bowie ma mi vengono in mente i Bowie Bond mi vengono in mente un sacco di situazioni che però poi il problema è che la gente non studia questo come diceva il nostro Matteo alone di divinità rispetto agli artisti si diventa una sorta di santo graal intoccabile quindi si cade nelle banalità di questi pensieri che non valgono niente ok? quindi cosa succede? decidi di fare la persona l'individualista? il duro e puro? allora però lo devi fare consapevolmente vi faccio un esempio io ho prodotto diversa musica tanta musica Dario è testimone ma come testimone tanti altri sapendo che era una cosa che facevo per me per il mio gusto personale di ricerca per il mio voler mettermi alla prova per il mio voler imparare per il mio voler implementare magari le mie abilità per la mia voglia di allargare i miei orizzonti collaborativi quindi avevo delle finalità ma quelle finalità io ero ben consapevoli che quella musica non aveva spazio o probabilmente non l'avrebbe potuto avere e manco mi ponevo il problema perché cosa facevo? facevo la mia musica sereno senza le rotture di palle di perché poi nessuno mi cade nessuno funziona eccetera eccetera il problema qual'è? è che l'artista oggi che cosa fa? cerca spazio dove? in un mercato che è saturo ed è una roba talmente stupida ma non perché il mercato è saturo cioè io lo vedo per esempio tra i ragazzi giovani cioè prima di iniziare a fare questo video che è stato l'input l'incipit Luca se non ricordo male che c'è scritto e fa potete dirmi cosa ne pensate ho fatto questo EP che ho fatto questo pezzo secondo me potrebbe funzionare la solita roba tritta ritritta sample conto sample autotune eccetera eccetera e quindi cosa succede? che qua il mercato ricordatevi è più furbo di voi se voi non lo imparate a conoscere ok? e io qua potrei entrare discorsi molto più complicati cioè si potrebbe aprire ma che cos'è il mercato? perché c'è il mercato discografico c'è il mercato distributivo c'è il mercato live c'è il mercato editoriale c'è il mercato delle licenze ci sono ok delle sottocategorie di mercato che comunque rispondono sempre a un'ottica di domanda risposta non domanda mi piace pensarla come domanda risposta perché si fa così? perché tutti fanno le stesse cose? perché tutti continuano individualmente a continuare a pensare che quello che a loro piace potrebbe essere quello che piace al mercato ok? questa è una risposta che ovviamente andrebbe ricercata dove? comprendendo questo lato oscuro ok? lato che pochi valutano pochi conoscono no? poi capisco che il balletto su tiktok è la visibilità ricordatevi però ricordatevi sempre che la domanda la visibilità è una domanda è una vostra domanda il mercato dà delle risposte a questa domanda ads pubblicità spendi soldi fatti vedere e se fai il videoclip ufficiale mi raccomando ficaci nel meno 300 euro di google ads o qualsiasi altra cosa per arrivare almeno a quelle 10.000 visualizzazioni o magari 20.000 visualizzazioni perché la visibilità ti serve visibilità perché se poi non hai visibilità come fai a monetizzare ok? capite qual è il giro? quindi oggi vi ho svelato il trucco ora come fare sedersi a tavolino valutare la situazione per questo noi diciamo sempre ci vogliono analisi progettuali serie analisi di mercato fatte in un determinato modo l'artista che funziona come anche il musicista professionista che vuole lavorare seriamente all'interno di questo market deve conoscere questa roba perché se no spiegami come fai a generare non so capire che tipo di servizi fare ok? cosa fai? ti butti come le pecore dove? dove c'è saturazione fiverr soundbatter igeeks tutte queste situazioni qua non è così che funziona bisogna rivoluzionare il pensiero che sta dietro questo genere di argomenti ora ultimo ok? oggi regaliamo proprio informazioni che cos'è il denaro? a questo punto mi verrebbe da chiedermi no? magari chi il denaro è dare tangibilità è un ponte che genera una tangibilità o meglio la tangibilità di una risposta a una domanda cioè vi faccio un esempio il denaro è l'unico ponte che abbiamo con cui dare tangibilità a quello che noi riteniamo essere il valore ipotetico di un oggetto cioè io potrei dire questo in realtà coso per pulire i giradischi che oggi utilizzo per cancellare la lavagna ormes genova accessori radio tv costa un euro quindi io attribuisco a questo oggetto il valore di un euro e uno potrebbe dirmi va bene è tanto è poco potrei dire quanto vale la tua musica qua si aprirebbe un'altra parentesi meglio non aprirla oppure potrei dire questo vale mille euro perché perché questo me lo ricordo appoggiato al giradischi ok di mio papà tutte le volte che ci metteva la sera la musica ok sono cresciuto con Frank Zappa con Linton Quasi Johnson con Bob Marley in The Whalers fin sopra proprio le orecchie Pink Floyd ok tutti i vinili che aveva e questo era appoggiato lì per cui è un valore affettivo io questo se proprio devo darlo via lo darò a 100 euro ok e uno potrebbe dirmi tu sei fuori e il mercato potrebbe dirmi guarda che a nessuno frega niente che questo è un oggetto che ti ricordi perché frega niente oppure potete dire questo accessorio è quello con cui si è pulito il culo David Bowie ok nell'ultimo mese della sua vita oh e vale 100.000 dollari ok a questo punto io vi direi e vi lascerei con questo chi volesse poi ovviamente approfondire sapete che potete farlo qual è il valore di questo oggetto un po' Grazie.